Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video del Dash Red Gaming Dunque, eravamo rimasti qua Che avevamo appena finito di spaccare tutto in questo... Non mi ricordo anche più come si chiama, in questo avamposto forse Eeeh... E niente, adesso dovevamo andare all'ospedale Anzi no, da quel dottore lì Dunque, io prima di tutto, come vedete, non ho munizioni Ok Aprire Cos'è sta roba? Che belle case Dopo le macchine ci sono anche... La memory card Perché ha dovuto chiudere il computer? Che serio? Vabbè Comunque Eeeh... Aspetta, compro un attimo le munizioni e dopo vi narro tutto ciò che vi dovevo narrare Minchia C'ho solo un fucile e mi chiede tutte queste cose Madonna Ah, ok, mi ricarica anche quelle cose Vabbè Vediamo se mi posso comprare qualche... Ah no Cos'è sta roba? Ah, così le vendi, ok Vendo tutto, tanto non me ne fraccio niente No, questo no Allora Eeeh... pistole Ci prendiamo una pistola? No Cosa ci sono di pistole? Ma questa ce l'ho già Speciali Speciali L'arco Io voglio l'arco No, non c'ho soldi Andiamo a fare le rapine Andiamo a rapinare la gente No vabbè Allora, adesso nel frattempo che andiamo... Dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare dal dottore E dov'è il dottore? Dove è il dottore? Fino a qua E beh, io rubo una macchina E beh, sì eh Comunque, nel frattempo che facciamo questa scampagnata per andare dal nostro dottore Vi voglio raccontare un attimino perché nell'altro video c'era stato quel... C'era quel problema che laggava E sostanzialmente non ve l'ho potuto dire... Prima perché io praticamente quei due video li avrò registrati assieme Come farò con questo e quello che verrà dopo E praticamente... Che cazzo di musica è? Che seria? Non so se la senti... Oddio, 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 odd Se lo esportavo Non sentivo l'audio Comunque raga sta canzoncina è troppo figa Io cambierò discorso ogni due secondi Ma io se ho fatto così Però sta canzoncina è veramente troppo figa Hit Parade 2013 E praticamente non mi esportava i video E quindi l'ho dovuto riregistrare Con un altro Con un'altra cosa Che me lo potesse Far vedere e sentire E quindi Madonna Cioè vaffanbagno Ah ecco mi voglio scusare Con ci sono delle persone Che hanno detto che forse dico troppe parolacce Effettivamente hanno ragione Però Cioè non però Cercherò di controllarmi E niente vi chiedo già scusa se mi scappa qualcosa Ma succede Che figa sta canzoncina Almeno ho già imparato a memoria È troppo seria Ma tipo sono in Sicilia Dove sta andando Questa è la Sarello Reggio Calabria Io non ci sono andato Prendiamo Sant'Enna No da che Io come sempre Non ho Fatemi un attimo attivare Come si fa Io con una mano sto guidando E con l'altra guardo l'iPhone Iphone Dove sta andando Infatti si vede No però ho guido attivo l'iPhone No io voglio fare tutte e due insieme Ok Ok no No Orologio Dove sono andato Scendiamo va Un attimo Ok devo un attimino Attivare perché Ok E Va bene Dobbiamo andare di là Quindi io prenderei questa Moto Motoslitta Logicamente Allora moto d'acqua è bello L'ho fatta apposta Madonna Che bella grafica Raga veramente Non ci posso creare Ok E Devo andare fino là Dai Ma cos'è sta roba Boh Strogheggiamo fino lassù E comunque anche oggi Prima di registrare Ho fatto Ho avuto un casino Perché Logicamente quel problema Io non è che l'avevo messo a posto Appena se l'ha verificato Ho aspettato il giorno Di registrare Che magari non avrei neanche fatto in tempo Per Per metterla a posto Dove sta andando Quella che sono cabra Non ti voglio sparare Ti lancio una mina No scherzo Ti sparerò più in là Ok Comunque ho aspettato il giorno Di registrare Che dovevo registrare Per metterlo a posto E praticamente io mi sono messo L'uno e mezzo Ho detto Oh che bello Dai registro Un'altra puntata Sono le quattro e mezza E ho appena iniziato a registrare Come potete Vedere Madonna La prossima volta Mi porto I scarponcini Da trekking Qua sopra Sono stanco io per te Figlio mio Dove è caduto il fucile Ragazzi Non ho più il fucile Ah no È vero che non mi tuffo più Nei laghi Cioè Qua Nei stanni Che trovo i coccodrilli E no Abnormemente giganti Carica Tutto pezzo di video Spero che voi lo sentiate ragazzi Perché sennò per me Sarebbe una delusione Morale Pastiglia blu Entra in matrix Ah Che è sto qua Io prediligo quelle rosse Le viola ti tirano su In un giorno mesto Eh chissà cos'è 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 il giorno mesto Immagino Oh non le gialle Non prenderle Possono essere letali Per il mix Giustamente Allora lasciamoli lì Beh detto questo Dottor Erner Eccomi qui Anche se a volte Mi capita di essere fuori Eh Secondo me sei sempre fuori Comunque Non so se lo sentite Ma Jason C'ha la voce stranissima Uno dei tuoi amici Più tardi Più tardi Ne distillerò un po' Di miei amici? Cosa? Tu distilli i miei amici? Dici Dici La ragazza No Dico l'uva Che cacchio fa? Pensavo che stessi parlando In codice Eh già Dove? Codice Ash Certo In casa mia Sì qui Ma sto qua che dice Che ci distilla Ma pensate che gente Cos'è sta cosa? Ah è quello per il vento Dove devo andare Dove devo entrare? Apriamo la porta Ecco io tutti sti libri Non li avrò mai In tutta la mia Ma quanti libri ha Questo tipo? Ma quanti libri ha? Ma tipo Che se io ne ho uno È già tanto Che la mia E non l'ho neanche Ma che cos'era nell'angolo? L'hanno un attimino Ammazzata questa Ma sì C'è la febbra Quando l'ho trovata Aveva un taglio Sul braccio Che sarebbe Una cosa da poco Però È anche passata In un campo Di antiarisetoxico Vabbè Allora effettivamente C'hai ragione Che occhi c'è sto tipo Sono finti Che bell'è la scatolina Sembrava il disegnino Di fallout È brutto da dire così È vuota Dove ne trovo dell'altro Eh che ne so io Ma c'hai gli occhi storti Sto tipo Che occhi storti c'ha? Un occhio ce l'ha pieno Nel senso che non c'ha La parte bianca E l'altro C'è la storta Deve fare la convergenza Sto tipo Grazie dottore Mi scusi per la fretta Ebbè quella sta morendo Jason La ragazza deve vivere Ah schifoso Per te e per me Schifoso Cosa fai oh Ti prendi cu Chi è che ha chiuso? Lui era seduto sul letto Che mi ha fatto a chiudere? Vabbè Profondo fungo Ma che cacchio è? Cosa mi rappresenta Profondo fungo? Come si fa a salire Su sta cosa? Io voglio salirci Dai Fammi salire Ok No non ci sganciamo Che sennò ci ammazziamo Eh si è sganciato lui Perché non ti Non rimani attaccato Scusami Che senso avrebbe scendere lì? Cos'è quello? Cos'è quello che lo ammazzo? No Mi sono ammazzato Ciao No mi ammazza Guarda che mi ammazza Mi stava ammazzando Io perché sono stupido Che vado a cacciare i cinghiali Cioè Tanto mi sono fatto malissimo Ma te la sei già messa? Quante generazioni ste bende ragazzi? Tra l'altro non Ottimo Non ha specificato Che la grotta è sott'acqua Eh già Io adesso mi blocco un coccodrillo Ma Che s... Allora Ah ma devo andare sott'acqua di tanto anche Andiamo 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 Let's go let's go A me la pesca subacquea è un mio hobby Un mio hobbit Lo hobbit La pesca subacquea Sì ma questo sta morendo Io neanche riuscii a trattenere il soffiro Il soffiro Il respiro per così tanto Perché non so parlare italiano? Speriamo che il dottore sappia quello che fa Eh va Ce l'ha lanciato i quattenti Falso della fede Cos'è Assassin's Creed? E beh allora raga facciamolo con... No Facciamolo con stile No Volevo lanciare il C4 E poi farlo esplodere in aria Vabbè Vabbè Tra l'altro ste piante rampicanti Sono dappertutto Vabbè facciamolo Mettiamolo qua Tipo il C4 Perché non ti attacchi? Scommetete che muoio? No perché mi sono nascosto molto tatticamente Però non avete visto neanche l'esplosione Come non l'ho vista neanche io Allora C'ho delle armi che non ho mai visto Dove devo andare? Devo risalire qua Sì Dai Ma non l'ho fatto io però Ah è del gioco Ok No Ma che caso I funghetti allucinogeni Se ci fossero anche le rane da leccare stile Homer sarebbe stupendo Sì come si è ripreso adesso? Lo svarione Lo svarione dei fungoni Ecco mi sa che lo chiamo così Io prediligo quelle rosse Fammelo segnare Lo svarione dei fungoni Lo svarione Dai No mi sono allungate le braccia Ma che cacchio Ragazzi dove cosa 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 Sono Cioè ma dove sto andando? Sono praticamente come se stessi camminando Madonna ma che botta c'ha questo? Peggio non lo so io Che botta si è preso sto ragazzo poverino Raga Un giorno organizziamo una cita in questa grotta Chissà come ne usciamo Disversi tutti storti Lisa siamo a Bangkok insieme E tu sei così bella che non me lo spiego Eva Spiegati sta cosa Perché gli alberi sono viola? Spiegatelo Che faccio? Vi divido come con i vostri amici Eh gli altri ci hai sparato veramente Avevo promesso a papà di avere cura di voi Oddio Eh Chi è che sta parlando tra l'altro? Ah ma questo c'ha lo sparione Ah praticamente è tutto quello che è successo prima forse Sono impegnato Non so come lo vedete voi ma non è una bella cosa Allora se ci dobbiamo pigliare in giro per tanto tempo ancora Dimmelo così io esco Allora io me ne vado No scherzo Eh se stai fermo magari mi fai un piacere Che magari eh Ok Sto sono un hamburger? Ah non so più Sono un brustel Perché mi drogo? Cioè io vedere questo che si droga mi drogo pure io Cosa sta succedendo? Grand Grand Tanto si rigenerano Allora sembrano o brufoli o hamburger No sembrano più hamburger che Vabbè I funghi I funghi Ti vedi che No ma che cacchio Ma perché appena sono tanto così da prendere Dove sono caduto? Vabbè ok dai Gli ho presi i funghi Eccoli lì Madonna Ammazza lì Dai Cioè con tutti quelli enormi che c'erano devi andare a prendere quello più piccolo Ma prendi ne più di uno no? Non si può? Madonna Che scoltellate Della serie Miracle Blade Andiamo Ma ragazzi C'è gente che dice che lo chef Tony è morto C'è gente che dice che non è morto Io non lo so Per quanto sono rimasto là sotto? Eh Ti sei fatto uno svarione enorme Peggio di quelli che mi faccio io con il gioco a Far Cryco A Far Cryco Cosa mi dice che non mi devo buttare io? Va andiamo ad arresti i fungoni al dottore No 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 Ah ok Mi stavo già uccidendo Comunque ragazzi penso che farò episodi di 20 minuti Sì perché magari Poi c'è gente che Allora ho visto che Vi farebbe piacere anche Di 30 minuti Però poi Diventano magari noiosi Per chi non gli fa piacere Cioè non so se avete capito no? Devo cercare di accontentare un po' tutti Quindi i 20 minuti sono una giusta via di mezzo La strada di mezzo Mordor No Ma si chiama già l'Hobbit Oddio Ah Frodo Mamma mia Non mi ricordo Noi facciamoci un bagno Riflessiamoci le idee Dopo aver fumato come degli animali Cioè che poi non ha neanche fumato Sono inalato Scusami Vabbè Ma è lo stesso posto di prima Questo intanto cosa sta facendo Ho preparato qualche lecornia mentre eri fuori Ah sì la ragazza è sveglia Tu no E' un becco buonze nella candela Vedi che sia un drogato Guarda che faccia che c'hai Ho preso i funghi Sembra un drogato rega Cioè non sembra Ci vorrà qualche minuto per preparare la medicina Eh va Sì ma Sei calmo eh Ti sparo Eh mo Tornano al dottor N Ah ok questo l'ho fatto Incontra Daisy Andiamo a incontrare Daisy 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 Ah lo so che non è così la canzone però Era così Just for far Just for far qualcosa Nel mio inglese Si ripresa la tipa qua vediamo Sì si ripresa Come ti senti? Eh Ti sei salvato Eh io sì Quel dottore è pazzo Eh È innocuo Pure dolce a dire il vero Ma Mi ha portata qui lui Sono scappata dal compoglio Poi ho perso i sensi Guardate la canzoncina seria Il dottore mi ha salvata È un sollievo Deve essere stata molto dura Mi fissare così tanto Cos'è Ma raga l'occhio di destra I progettisti non lo sapevano fare Però le espressioni sono fatte troppo bene Veramente Neanche un film Basta Daisy Mi dispiace tanto Che bello Quindi è così? Eh si è morto Io E questo cos'è? Un braccio Annalta tua algebra Te la caverai Devo parlare con il dottore Per trovare gli altri Sì Sicura? Vai Dai però no Non fare quella fascia Che mi metti tristezza Mamma mia Andiamo subito a sparare a qualcuno Dimmi Dimmi fanciulla Chiunque sia stato Chi ha ucciso Grant Merita di morire Puoi dirlo Puoi dirlo cavolo C'è l'ha un minuto Certamente Adesso lo lancio a Giuda La scala Ah non è niente Vabbè Mancano ancora mio fratello I miei tre amici Quando li trovo Posso portarli qui Eh 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 Assolutamente no Oh Eh Non posso tenere i prigionieri di Vass Ma si tanto sei drogato Chi se ne fai Pensate E allora è il posto più sicuro Effettivamente Psicologia inversa Ragazzi sentite una cosa tipo È la mia sedia Perché È nuova però fa così Agnes Ma questo è fumato perso Sì posso non stare Vedi bisognerebbe avere un professore Condizionabile in questa maniera Cioè tipo gli porti Una tipa A un tipo Eva Eh va Per calmarmi i nervi Eh Non serve proprio a quello eh Cioè diciamo che Potresti fare in altre maniere Brava Cioè la voce di Jason Sembra tipo una voce fuori campo Non so se l'avete presente Non Non me la trovo Non c'è Non capisco Hai trovato il tuo amico Amica Sì sta bene Ti ringrazio Eh amica Come lo sta tenendo il cellulare ragazzi Come Come Spiegheggiatemelo Come Che figo Guardate la grafica Cos'è la medusa Eh Un Anima La via del guerriero A destra il tuo corpo E la mente Seguirà Il Tatao ti sarà D'aiuto Cosa me ne faccio Un tatuaggio Cosa glielo faccio vedere Si spaventano Vabbè Io qui Prima ho visto qualcosa Che mi interessava Eccolo Allora Prima Io farei così Raga Visto che Sinceramente Cioè Di fare un'altra missione Non abbiamo il tempo No Perché sono già 15 minuti E dovremmo usare Dovremmo meno Farne altre 15 Quindi diventerebbe mezz'ora Io direi di andare a cacciare le capre Voi che ne dite? Vabbè Non potete rispondere Quindi Andiamo a cacciare le capre Le capre Io devo andare fino a qua Per cacciare due capre No Anzi Piuttosto che andare a cacciare le capre Andiamo a prendere la torre radio Cacciamo le capre la prossima volta Così Giusto per non fare un'altra missione Che sennò poi Se fosse di 30 minuti Sarebbe la fine del mondo Questo è un deltaplano Boh Che figo Allora Io adesso mi spaccherò Contro le montagne Lo so già Allora Ok Così si gira Dunque La torre radio è là Io proporrei di lanciarmi No Proporrei di lanciarmi Nell'air Nella Come si chiama? Nell'acqua Tipo però Anche qua Anche qua Adesso vediamo Adesso vi faccio vedere C'è qualcuno che mi scrive su steam Che bello però il deltaplano Io adesso mi lancio da qua Spero di non morire E di non beccare neanche uno squalo Vai Minchia che faccia Faccia tirato Scusate Mi è uscito Mi è scappato Vai così Ah tra l'altro volevo salutare tutti i papai in ascolto Perché ce ne sono Mi è stato riferito Ah e poi Ecco iniziamo con i saluti Che se no me li dimentico Eh volevo salutare Eh i due fan Più accaniti Diciamo del TSG Che sono Eros E cicco E niente vi saluto Un saluto di cuore Ecco dopo che sono salito qua Saluto di cuore E niente vi ringraziamo tantissimo Per tutto Siete dei miti Niente Respect Guarda per voi mi lancerò anche da qua poi Eh sì Sì Ok Ok Ah ma devo andare là Haha Non l'avevo mica visto Allora non so se 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 voi sentite i suoni Ecco Io tipo Non ci salirei mai più qua dentro Qua sopra Bo Allora andiamo ad attivare Come devo fare Ah così Attiviamo sta torre radar Radio radar uguale ze Dunque Allora Cosa manca Ah ok Non devo più salire anche perchè Sono C'è tipo arrivato in cima All'universo Ok Lui stacca tutto Strappa Ok Come fa I nostri retrauti di fiducia Spaccano tutto Perfetto Cos'è tutta Sti Sti cosi Ok Quindi ho detto che mi lanciavo da qua Ma non lo farò perchè Mi ammazzo penso Eh si Penso di Di uccidermi E quindi non lo farò Però da qua Neanche perchè mi ammazzo in ogni caso Da qua Neanche perchè No Da qua E da qua no Comunque in ogni caso io direi che Meglio scendere da qua no Non in questa maniera Non in questa maniera Che schifo Che schifo Che schifo Che schifo Eeeh Allora io adesso devo risalire su perchè sono un idiota Ma non c'è un modo tipo per aumentare la FOV Voi che sapete Voi che sapete tutto Io povero ignorante Non so niente Allora nel frattempo che io sto cercando di Di uscire da qua E' già passato 60 minuti Mi lancerai da qua Ma ho paura di sfracellarmi Quindi Ammazziamo sti tipi E poi direi che si può anche staccare E poi Il prossimo episodio Faremo una missione E se abbiamo tempo Andiamo a caccia di capre Muori Muori Li ho ucciso Si vai tranquillo Io ti accolta Il coltello invece Non la metti Ha fatto pure la faccia triste E beh ci credo Effettivamente Io ho infilato un coltello in gola Ok Facchetto di cocaina Mmm Ho fatto Sono salvo Ma ce l'arriva il tizio Salvo Sono in base Premuto è per saccheggiare Ok ragazzi Dunque La puntata di L'episodio di oggi Finisce qua Spero di non avervi annoiato E Come sempre Se vi è piaciuto il video Lasciate un commento Si lasciate un commento Un mi piace E niente raga Il prossimo episodio Che registrerò Adesso Quindi niente ragazzi Al prossimo video Ciao